Buon pomeriggio a tutti! Avete fatto i compiti? Guardate che vi controllo! Vi ricordate la precedente analisi sull'oro? Ecco, avevo lasciato a voi, dopo una prima centratura, andare a fare le sottocentrature a livello di cicli settimanali. Un ciclo settimanale è un ciclo che, fuori dalla leggenda, dura al minimo 6 giorni, in media 8, al massimo 11. 11, massimo 11 giorni. Che cosa ho fatto quindi per tutti noi del circolo virtuoso? Sono andato a fare quello che andrà fatto, ovvero, avevo soltanto lasciato pochi riferimenti su questo grafico, sono andato a cercare la scomposizione in cicli settimanali. Perché fare una scomposizione a cicli settimanali? Per andare a vedere, soprattutto, quel ritmo del mercato, in questo caso dell'oro, appunto, e vedere se magari ci sono dei cicli che si ripetono spesso. Per dire, il primo ciclo, partito da qui e finito da qui, finito qui, ok, è durato 6 barre, poi abbiamo avuto 7, poi per 3 volte abbiamo avuto 8, 8, 8. Quindi la durata media classica di un ciclo. Poi, dal secondo mensile. Guardate se avete fatto la scomposizione come la mia, ok? Così saprete se avete fatto un buon lavoro. Oppure magari qualcosa avrei visto. Dal secondo ciclo, dopo 3, 8, 8, 8, abbiamo avuto 10. 10, 9, e poi abbiamo cambiato ritmo. Quindi abbiamo visto che abbiamo fatto varie volte 10, varie volte 8. E se andiamo a partire da qua, qui abbiamo di nuovo 10, ma dimmi tu, poi 8, poi un ciclo più lungo, ok. E quindi che cosa possiamo valutare per quanto riguarda questo quarto ticco? Allora, dunque, qua. Aspettate che devo andarlo a riprendere. Allora, 11 candele. Eccolo qua. Dodicesima che fa dal raccordo tra un settimanale e l'altro. Ok. E poi, eccoci qua, noi siamo arrivati a 7 barre. Facciamo che fare... Sì, 7 va bene comunque come discorso. Cosa possiamo aspettarci? Se mediamente battiamo gli 8 o i 10 giorni, siamo talmente vicini a chiudere questo quarto di settimanale ritornando sotto il minimo a 1980,9... Scusate. Ah, 1900... Sì, giusto. A 1980,9... Che già io un allarmino me lo metterei. 1980,9... Viaggio d'allarmi su tutto. 1980,9. Ok. Chiusura. T settimanale. Il T è il settimanale. Guardatevi sempre la leggenda che ho postato qua. Aggiungerò eventualmente i cicli inferiori al mensile. Basta dividere per due spesso le durate e avrete il T più uno, il T, eccetera, eccetera. Ok. Quindi abbiamo capito perché è importante e sto usando questa analisi per aiutarvi oltre i trading days a capire come fare le cose per imparare la ciclica evoluta l'analisi evoluta a questo punto che cosa possiamo ancora fare? Allora prima cosa qui può essersi chiuso un mensile a 24 barre? No, perché questa barra qua è blu. Ok. Può essersi chiuso qui? Sì condizione necessaria e sufficiente fatta potrebbe ancora essere vivo il nostro primo mensile che può durare massimo 43 barre guardate sempre la leggenda la risposta ovviamente sì quindi se tornassimo sotto questo minimo a 19.000 a 1980,9 sto facendo troppe analisi in questo periodo ma con la nuova collaborazione diventa tutto più rapido e più veloce se tornassimo qui sotto dove abbiamo messo l'allarme che cosa succederebbe? Avremo di nuovo la che cosa succederebbe? Avremo di nuovo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un ciclo mensile con un'ultima piccola discesa basterebbe anche piccola si potrebbe tornare anche fino a qua fino alla media mobile come volete voi ma in ogni caso discesa ok e poi chiuso un ciclo mensile disegnato male chiuso un ciclo mensile che cosa succede in media? esauriti i 43 giorni al massimo ma ripeto può anche durare meno che cosa succede? si genera un altro mensile solitamente a meno che non ci siano raccordi ok adesso abbiamo compreso a che cosa serve appunto identificare il ritmo del mercato e quindi andare a cercare i t settimanali su un grafico quello dell'oro piuttosto che qualsiasi altro che vi possa venire in mente perché le volute si può utilizzare da qualsiasi parte manca un altro compitino che vi lascerò da fare da questo massimo perché noi abbiamo visto la ciclica base ok un ciclo parte da un minimo va su un massimo torna su un minimo ok e abbiamo un movimento classico volete vederlo più rosso? ok eccolo qua questo è un ciclo primo ciclo dunque trimestrale ok raccordo ok secondo trimestrale quindi parte da un minimo va su un massimo torna su un minimo questo è un ciclo però potete anche vedere i cicli inversi che la vecchia ciclica non utilizza o almeno non sanno utilizzare ovvero partendo dai massimi si può fare uno partiamo da massimo minimo e si va su massimo ok è come se vi girassi se vi flippassi per l'asse delle x il grafico così ok ciò che adesso è un minimo prima era un massimo ve lo rigiro ok e quindi avete delle u invece che delle m potete fare tutti gli stessi discorsi che abbiamo appena finito di fare nello stesso identico modo appunto per l'inverso quindi che cosa qual è il compito per arrivare alla prossima analisi il compito per arrivare alla prossima analisi è andare a cercare i sottocicli che ci possono portare a una centratura dell'inverso ok vi faccio vedere come facciamo si prende da qui e si va piano piano a vedere quanto massimo può durare un ciclo 11 barre un ciclo settimanale se chiederete le analisi ancora per poco la mail info chiocciola financial armor punto eu è scritto praticamente sotto ogni video nei commenti l'indirizzo mail potete avere ovviamente degli appunti gratuiti che verranno tra un po' cambiati prima varierò quello del gruppo premium e poi quelli per tutti gli altri in cui avrete delle tabelle cicliche saprete che appunto un ciclo settimanale sia lato indice che lato inverso può durare minimo 6 giorni in media 8 e al massimo 11 a questo punto sappiamo che si parte da massimi si va su minimi e si torna su massimi qui possiamo avere un ciclo che ha chiuso a da questo massimo a questo massimo a 9 giorni sì è possibile e da qui possiamo avere un ciclo che da qua a qua ha chiuso in 12 giorni in realtà no 12 non è una durata ciclica però ci può essere un raccordo tra un settimanale e un altro di 3 gradi inferiori rispetto al settimanale precedente e qui possiamo avere un altro sottociclo a 10 giorni ok perfetto quindi avete compreso che cosa andiamo a fare andiamo a scomporre ok il grafico e andare a cercare anche la scomposizione per inversi questo perché qual è la sua utilità sta diventando un webinar di nuovo attenzione siamo già a quasi 10 minuti webinar gratuito siamo arrivati a 49 giorni di inverso guardiamo qui un mensile può durare 49 giorni no da qualche parte qui può essere partito un trimestrale un secondo mensile inverso allora il primo mensile inverso che fa parte del trimestrale inverso è partito da qui può essersi chiuso su questo massimo a 31 giorni sì alle condizioni per la chiusura ci sono le condizioni per la ripartenza da qui di un nuovo trimestrale di inverso ci servono almeno 12 giorni sotto un massimo no non ce li abbiamo per un giorno perché con questa candela verde andiamo a bruciarci quindi dato che un mensile non può durare appunto tutto questo tempo e che facciamo? come la risolviamo? la risolviamo cercando dei raccordi in questo caso sull'oro non so ancora se tutto funzioni come dalle altre parti per quello che sto andando a cercare il ritmo del mercato perché a noi interessa sempre trovare il tempo con cui ci si muove noi possiamo sapere quanto si continuerà a salire e scendere grazie ai vincoli che sono dati dalle durate minime medie e massime e dalle violazioni degli swing o dei minimi e dei massimi da cui inizia un ciclo o un ciclo inverso e per quello che vi dicevo che possiamo provare a continuare a scendere fino eventualmente all'undicesima giornata all'undicesima barra o in media all'ottava a no a decima tutte le infamezzo perché noi interessa capire cosa sta succedendo qui che cosa è iniziato da qua sopra facciamo cosa semplice bel punto di domanda e sotto facciamo un'altra cosa interessante quanti giorni da quanti giorni siamo sotto questo massimo lo siamo da undici ok quindi ci mettiamo undici e che cosa possiamo dire e possiamo dire una cosa interessante che sappiamo già che se avremo ancora una giornata sotto questo massimo da qui può essere partito un nuovo non soltanto un settimanale ma anche un mensile se non qualche cosa di più e a noi interessa sapere a che punto siamo dell'inverso perché perché se sappiamo con certezza che da qui è partito un nuovo annuale un tp5 eccolo qua è un ciclo annuale che dura al massimo 336 giorni e che ha una buona spinta per adesso perché i massimi li sta facendo nella sua seconda parte li abbiamo appena battuti ci interessa anche sapere cosa succederà da adesso in avanti e l'inverso aiuta tanto a saperlo perché perché rispetto alla visione limitata che abbiamo tra virgolette con l'indice se io vi chiudo questo grafico e se faccio così prendo questo massimo si scende su minimi si torna su massimi ok io ho 276 giorni di inverso non sono pochi sono oltre la durata media ok da questo massimo a questo massimo sono 227 anche qui siamo dentro la durata di un annuale di inverso e allora uno direbbe beh allora dove è finito non è finito sta iniziando un altro su questo canale non lavoriamo con le opinioni ok regole cosa dicono le regole ci dicono che un annuale inverso come qualsiasi altro ciclo parte con un sottociclo inferiore di 2 gradi quindi t più 5 inverso meno 2 gradi t più 3 inverso ovvero un trimestrale inverso ok laterale alzista vediamo se abbiamo almeno 48 giorni sotto questo massimo andiamo a vedere solo 30 poi c'è la violazione quindi da qui non può essere partito un nuovo annuale inverso da altre parti può essere partito un annuale inverso dopo 192 barre minimo dunque 192 arriviamo a sì arriviamo qua ok da questo massimo a questo massimo qui non parte niente qui abbiamo detto che non parte niente quindi e quindi guardate che cosa vi dice l'inverso quindi qui possiamo aver avuto una chiusura di annuale inverso che però dovrebbe scatenare una forte discesa perché l'inverso dopo che è chiuso quando parte spinge forte giù guardate come siamo andati poi anche ritorno ma chiusura e di nuovo giù 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 qui sappiamo che ci avviciniamo ad avere un mensile inverso di spinta ci siamo avvicinati tanto al massimo assoluto siamo anche tanto in ritardo come tempi perché fossimo arrivati sopra questo massimo assoluto prima dei 192 giorni avevamo un vincolo a continuare a salire come minimo fino a 192 256 386 giorni ok ma dato che non è successo noi a noi adesso interessa una cosa sapere che cosa sta iniziando da qui per sapere che cosa sta iniziando da qui dobbiamo tornare a scomporre tutto questo inverso anche questo è un compito che vi lascio così potete controllare se lo state facendo bene ed è facile da fare come cosa da questo massimo a questo massimo quanti giorni abbiamo avuto 28 e quindi magia delle magie che cosa probabilmente abbiamo avuto lì la chiusura di un mensile e quindi che cosa inizia da qui sopra un nuovo mensile eccolo qua ok secondo mensile inverso però con la i se vedete questa nomenclatura la uso solo io se vedete queste lettere e numeri messi così vicino al grafico lo utilizzo solo io nessun altro l'ha fatto in precedenza ok sapete chi sta copiando da me e purtroppo ce ne sono tanti e non ammettono la cosa e sapete quindi che qui si può essere chiuso un altro mensile inverso giusto da qua a qua ok andiamo anche a cercare fino a 43 alla durata massima no per ora mi tengo questo per cui il lavoro che va fatto è questo terzo mensile inverso adesso poi non voglio farvelo tutto perché sennò poi è che ci prendo gusto e allora poi mi fermo sui grafici in continuazione a fare questi lavori e poi non riesco a fare più nient'altro perché non sapete quanto è appassionante poter fare questo genere di lavoro e vedere i risultati nei trade e guadagnare grazie a tutto questo impegno quotidiano come vedete video quotidiani allenamento quotidiano grafici e osservazione di grafici quotidiana ok vi ho dato là questo è ciò che va fatto per capire che cosa sta succedendo qui se rischiamo un raccordo inverso tra un annuale e un altro annuale perché quando partirà il nuovo annuale avremo discesa ok avremo una forte discesa quindi se in questo momento l'oro sta salendo ok ha avuto uno storno e vogliamo sapere però dove andrà tra un po' sappiamo che può anche eventualmente salire fino a 336 giorni di borsa aperta ovvero a 60 giorni da oggi ovvero per i prossimi tre mesi al massimo ok ma non vogliamo essere investiti a rialzo quando partirà poi l'annuale inverso quindi compito fare questa scansione ciclica vedere a che punto siamo e ragionare su quest'ultimo t più 3 inverso è un t più 3 inverso è un t più 2 inverso con raccordo che cos'è? andremo avanti a scoprirlo insieme nei prossimi video di analisi evoluta sull'oro spero che questa cosa vi piaccia e un'aggiunta oltre a trading days ok? vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida splendida giornata oggi è sabato andatevi a godere il sole perché probabilmente domenica e lunedì ci sarà pioggia e quindi avrò tempo per continuare a scrivere le nuove dispense buona giornata a tutti arrivederci grazie a tutti